13 novembre 2002. Durante una tempesta esplode un serbatoio a bordo della petroliera Prestige. La nave è riversa in mare oltre 60.000 tonnellate di greggio. È uno dei più gravi disastri ambientali mai avvenuti, una vera e propria Chernobyl del mare, che altera irreparabilmente l'ecosistema della costa galiziana. La petroliera si inabisserà sei giorni più tardi. Un'altra striscia nera lucida. Un'altra striscia nera lucida. È una striscia nera lucida.